Negli ultimi tempi, Eleonora Giorgi ha fatto visita a Silvia Toffanina Verissimo per raccontare con sincerità la sua lotta contro il tumore, affrontando temi delicati come la chemioterapia e le cure necessarie per sperare in un miglioramento. Con grande trasparenza, Eleonora ha parlato della possibilità di non farcela, ma ha anche condiviso la sua determinazione a rimanere ottimista e a vivere ogni momento con serenità. Tra i suoi desideri, c'è quello di lasciare un ricordo affettuoso al nipotino, affinché lui non la dimentichi. Recentemente, Eleonora ha concesso un'intervista toccante a Vanity Fair, in cui ha ribadito il suo desiderio di vivere il tempo che le resta con amore e semplicità. Ha spiegato che, qualora riuscisse a superare questa prova, non intende tornare alla vita frenetica di prima. Al contrario, vorrebbe dedicarsi completamente alla sua famiglia e godere della tranquillità ritrovata, lontana dai riflettori. Eleonora ha espresso la volontà di abbracciare una vita più autentica e libera da invidie, riscoprendo gioie semplici come guardare programmi che le strappano un sorriso. Con i suoi 70 anni, guarda il futuro con gratitudine e serenità, apprezzando ogni istante.